PEGI 16 Elden Ring è un action RPG ambientato in uno scuro mondo fantasy. Benvenuto nell'Interregno, una terra sconfinata e ricca di misteri, in cui si dipanerà il tuo viaggio alla ricerca dell'Anello Ancestrale. L'Interregno è dominato da possenti eroi, la stirpe che ha ereditato il sangue della regina Marical Eterna. Tu interpreterai un discendente dei Senzaluce, eroi che furono banditi dall'Interregno. La distruzione dell'Anello Ancestrale ha incrinato la fonte stessa del potere sacro dell'Albero Madre e, dopo molto tempo, i Senzaluce esiliati hanno ritrovato la guida della grazia. Come Senzaluce intraprenderai un viaggio attraverso l'Interregno, costellato di pericoli e di misteri, per sfidare gli eroi caduti di questo mondo. L'Interregno è composto da vasti e complessi scenari, brulicanti di minacce e forze oscure. Affronterai schiere di terrificanti nemici, incontrerai personaggi sorprendenti ed esplorerai deadali nascosti. Chi osa addentrarsi in queste catacombe, miniere e caverne, viene premiato con laute ricompense. Proseguendo nel tuo viaggio, raggiungerai la prima segreta, una struttura complessa e intricata, che si integra perfettamente con il paesaggio circostante. Questi enormi ambienti offrono una tensione e un'esplorazione peculiari, creando uno stacco netto rispetto alle atmosfere del mondo esterno. L'Interregno è un territorio esteso, esplorabile in totale libertà. Usa la mappa per orientarti. Posiziona segnali e contrassegni sui luoghi di interesse. O raggiungi all'istante i presidi già scoperti. Se vuoi spostarti più velocemente, evoca Torrente, il tuo fidato destriero fantasma che ti raggiungerà ovunque fuori dalle segrete. La notevole mobilità di Torrente consente di raggiungere le zone più remote ed elevate dell'interregno. Nel tuo viaggio incontrerai innumerevoli personaggi, ciascuno con motivazioni e mire differenti. Aiutali a raggiungere i loro obiettivi per conoscerne il passato e scoprire il vostro destino comune. La libertà concessa al giocatore non si limita all'esplorazione. Puoi rendere unico il tuo senza luce modificandone aspetto, armatura o abilità. Scegli se diventare un guerriero esperto nel corpo a corpo oppure un abile praticante di stregonerie e incantesimi o piuttosto si acquisire conoscenze in ogni ambito. Potrai scegliere tra un ampio repertorio di equipaggiamenti, armi, magie e abilità, sviluppando il tuo personaggio nella direzione che preferisci. I veri avventurieri non sottovalutano l'importanza di sfruttare i materiali raccolti per creare oggetti. Potrai realizzare moltissimi strumenti diversi, come frecce, bombe incendiarie, carni stagionate e altri oggetti consumabili. È anche possibile evocare spiriti che combattano al proprio fianco. Ciascuno ha proprietà differenti ed è fondamentale sceglierli in base alla situazione. Se il nemico è troppo forte, puoi evitare lo scontro diretto e tentare di aggirarlo o fuggire furtivamente. Unisciti a giocatori di altri mondi per viaggiare, esplorare e combattere insieme gli avversari più insidiosi. Lo sconfinato mondo dell'interregno è ricco di perigie, intrighi e faide mitologiche. Inizia la tua avventura per fare luce sui suoi segreti. Alzati senza luce. Alzati e diventa Lord Ancestrale. Alzati e diventa Lord Ancestrale.